Boccata d'ossigeno pura per il Gubbio che torna a sorridere a 50 giorni dall'ultima vittoria ottenuta in campionato lo scorso 8 dicembre contro la Paganese. Una vittoria, quella con il Prato, arrivata al termine di un match equilibrato e sofferto, per di più in una situazione climatica surreale, visto lo sciopero dei supporters della curva rimasti fuori dal Barbetti. Mister Roselli, che non può contare sui neoarrivati a Dai Gozzi per motivi burocratici, si affida al 4-4-2 con Caccavalle e Belfasti esterni di centro campo e Falzerano vicino a Longobardi in avanti con Falconieri ancora in panchina, modulo a specchio per il tecnico del Prato Esposito. La prima chance al minuto numero 12 è per i Lanieri, 1-2 nello stretto tra Pisanu e Magnaghi, conclusione radente di quest'ultimo che Pisseri respinge con un tuffo prodigioso alla propria sinistra. Il Gubbio risponde al diciannovesimo, corner di Radi, sponda acrobatica di Ferrari per Caccavallo che di testa incoccia il pieno il palo prima che la difesa ospita allontani. Da qui in poi prevale il tatticismo ed il primo tempo si conclude a reti bianche. Si passa alla ripresa e dopo 8 minuti il Gubbio passa in vantaggio. Lancio lungo di Belfasti per Longobardi che supera in un 1-1 Ghinassi in velocità, rientra sul destro e calibra un pregevole invito per Falzerano che di prima intenzione all'altezza del dischetto con un piatto chirurgico infila la Ieni, seconda rete consecutiva per l'ex Ascoli e Gubbio in vantaggio. Istantanea è la risposta del Prato che arriva 60 secondi dopo, cross di Armenise dalla sinistra e splendida conclusione al volo d'esterno piede di Grifoni, ma Pisseri è ancora salvifico con un plastico colpo di Reni a salvare il risultato. Il Prato preme è al diciottesimo sempre Grifoni, cross a basso sul primo palo dove irrompe Magnaghi che cerchi il colpo sotto ma Pisseri respinge ancora, Magnaghi si ritrova però la sfida tra i piedi e serve la corrente Serrotti che a porta sguarnita da pochi passi calcia sulla luna specando una palla a gol macroscopica. Roselli allora corre ai ripari inserendo in successione Sarra, Giuliacci e Laezza al posto di Longobardi, Belfasti e Baccolo al fine di difendere il vantaggio ed il Gubbio difatti gestisce con sapienza il match, sfiorando anche il raddoppio al trentaduesimo quando fa il Serrano a tu per tu con la Ieni, prova il pallonetto che termina però fuori misura, finisce 1-0 ed il Gubbio sale a 4-23 in gradatoria a tre lunghezze dalla zona playoff e domenica c'è la trasferta sul campo del Grosseto dell'ex Marotta.